Si salvi chi può è il nome della campagna di quest'anno. I GEP di ACMOS hanno scelto dei numeri rappresentativi della povertà e li hanno spiegati. Le categorie sono povertà di relazioni, povertà culturale, povertà materiale e povertà di futuro. 3,54 euro e la quota pro capite è destinata alle attività e agli interventi per l'infanzia e l'adolescenza per il 2013. Risorse così scarse riducono le alternative per il tempo libero dei giovani, i quali perdono l'opportunità di incontrare esperienze stimolanti che mettono in discussione il loro punto di vista. 2 milioni, il numero di quelli che vengono considerati la generazione NIT. I giovani italiani tra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano, né si preparano a farlo. Ma sono molto di più quei giovani che vivono la realtà con un senso di apatia, di galleggiamento e di rassegnazione. In questo senso è fondamentale scommettere su un modo di stare insieme che si è orientato ad un'etica della responsabilità e ad un protagonismo delle persone, capace di generare legami profondi fra gli individui e risposte concrete ai problemi. L'80% è la percentuale della popolazione adulta italiana che non possiede strumenti minimi indispensabili di lettura, struttura e calcolo. Questo dato preoccupante rischia di fomentare populismi ed estremismi che propongono una visione semplificata della realtà. Il 10,3% è la percentuale di italiani che non possiede nemmeno un libro in casa. La cultura potrebbe essere una delle risorse possibili per uscire dalle situazioni di povertà di futuro. Purtroppo però sempre meno persone scommettono sul capitale culturale. I provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili ad uso abitativo emessi nel 2012 ammontano in totale a 67.790 con un aumento rispetto all'anno precedente del 6,2%. Gli sfratti per morosità o altra causa rappresentano l'83,9% del totale. Con il perdurale della crisi economica ed occupazionale continuano ad aumentare. Quali sono le risposte che lo Stato è in grado di dare a questo problema? L'indennità di disoccupazione ammonta a 885 euro. Il 75% dello stipendio medio di un italiano calcolato dall'Istat. I ragazzi del subject guadagnano in media 500 euro. Se quindi sottriamo a questi 500, gli 885 che rappresentano la media dei sussidi di disoccupazione, otteniamo meno 385 euro, ovvero circa 400 alternative che non abbiamo. 758.000 è il numero degli abbandoni scolastici tra i 18 e i 24 anni. Abbandonare troppo presto gli studi significa non avere ancora abbastanza strumenti per scegliere la propria strada. Significa vivere in una situazione di accettazione passiva del presente. Il 35,3% è il tasso di disoccupati tra i 15 e i 24 anni nel 2012. Torino in particolare è una delle città con il più alto tasso di disoccupazione, il 33,9%, che la rende una delle province più povere del Nord Italia. Com'è possibile per noi, ragazzi torinesi, costruire un futuro in cui il lavoro sia una componente appagante della nostra vita? Il numero 6 è quello delle piazze di spaccio a Mirafiori Sud. In contrapposizione a questo c'è il numero 1, il solo centro giovanile del quartiere, che oltretutto non si occupa più di aggregazione ed educazione territoriale per mancanza di risorse. La povertà di futuro può avere anche forti connotazioni legate all'ambiente. Il 100% è la percentuale di lavoro che l'industria del riciclaggio genererebbe rispetto alla gestione delle discariche o degli inceneritori. Eppure la politica spesso osserva con sguardo miope questo tipo di questioni. Al prossimo episodio